Qui ormai è arrivato il moccone, nel senso che il cielo è stato accoperto tutto il giorno. Ancora non piove. La temperatura è scesa a 30 gradi e c'è un bel po' di vento. Solo l'umidità resta fortissima. Praticamente su questo lato dell'isola è cominciato il loro inverno. Invece 100 chilometri di là, sul lato est, questa è l'estate. Stamattina sono andato a vedere le rovine di un monastero 50 chilometri da qui, in Tuk Tuk. Guidatore simpaticissimo. Na? Na, na. Na tre. Hai trovato questo qui? Sì. Non ho problemi. Se non ho usato. Animali lungo il viaggio a volontà. Le volpi. Un elefante al bagno incatenato per i turisti. Un altro bambino. guardato con i turisti in Cina, io ho resistito alla tentazione. guardato con i turisti in Cina. Un altro bambino. Un varano tutto naturale poco più grande di quello di legno di casa. Le rovine in sé erano poco significative. Un monastero abbandonato dove i monaci pisciavano su lastre scolpite. Una meravigliosa era la salita sul monte per arrivarci. Un'olio. 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 Grazie.